Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il regista Cancelletto1, farò la recensione di un film del 1958, è arrivata la Parigina, una giovane proveniente da Parigi si trasferisce in Italia per fare l'attrice, dopo vari sfortunati tentativi la ragazza desiste e si mette a cercare un lavoro normale, il mio voto a questo film è 7, ho detto questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene nel film l'interpretazione della sceneggiatura e di genere dramma, la durata è 1 ore e 30 minuti, il regista è Camillo Mastro5, la regia è buona, bravo regista, la data di uscita in Italia è il 27 giugno 1958, l'attrice è Titina De Filippo, brava attrice, nel film anche Magali Noel, Maria Fiore, Celina Seli, George Mistral, Pina Gallini, Giacomo Furia, Ivi Olzer, Franco Fabrizi, Nando Bruno, Memmo Carotenuto, Mario Riva, Virgilio Riento, Oreste Lionello, Alberto Telegalli, Michele Malaspina, Edoardo Passarelli, Mario Siletti, Paolo Stoppa, Renato Montalbano, Saluto, Alessandro Bidone, Kevin, Gigi, Samubrina, Cita, Aliciotola, Marcolf, Mariuccia, Pia, Ilaria, Ilario, Domenico, Leo, Tassoni, Peter, Tim, Bulluni, Ivan Drago, Etelefin122, MrBikeTV, Il Trio Medusa Festival, Popone, Mac, Finder, Peter, Tim, Michele Trigigliani, Favij, Picchiatore, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.